Ancora stand disponibili per la Fiera Promotunno, unica vetrina del Nord Sardegna dedicata al mondo delle attività commerciali, artigionali e industriali. Regista all'evento la public cover di Claudio Rotunno, azienda sassarese, leader nel settore allestimenti per fiere, che è coinvolto come partner dell'iniziativa la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna e la Promocamera. La terza edizione della Fiera Promotunno si svolgerà il 12, il 13, il 14 ottobre nel palazzo di Promocamera qua a Sassari. Per quanto riguarda invece tutta la parte organizzativa, quest'anno abbiamo tutta una serie di eventi che faremo in più al progetto Fiera, al contesto Fiera, quindi non solo business, aziende, commercio, ma anche intrattenimento. Promotunno è la fiera appunto del Nord Sardegna che è diventata regionale ma sta diventata anche nazionale perché abbiamo oltre 20 aziende che vengono dalla penisola ma anche dall'estero come dalla Croazia, dall'Ungheria e dalla Germania. Sono aziende produttrici molto interessanti che stanno venendo qua a proporre i loro prodotti, quindi in fiera. Quindi devo dire che il mercato si sta espandendo.